Potrebbero emergere presto importanti novità investigative sul caso di Natalina Papandrea, la 43enne roccellese mamma di una bimba di 7 anni scomparsa da circa un anno e mezzo. La procura di Locri infatti, in virtù delle indagini fin cui svolte dai carabinieri della stazione di Roccella Ionica, avrebbe iscritto nel registro degli indagati una persona. Si tratterebbe di un insegnante in pensione residente in una cittadina della Locride, non lontana da Roccella Ionica. Nei confronti dell'indagato si ipotizzano i reati di omicidio e occultamento di cadavere. A fornire però certezze più concrete agli investigatori dei carabinieri e magistrati della procura, saranno i risultati delle analisi effettuate dai carabinieri del RIS di Messina all'interno dell'auto, per diverso tempo posta sotto sequestro di proprietà dell'indagato. Altri rilievi ritenuti importanti dagli investigatori potrebbero invece arrivare dalle perquisizioni fin cui compiute in alcune abitazioni, tra cui proprio quella dell'indagato. Di Natalina, nonostante le prolungate indagini compiute dai carabinieri, gli appelli della famiglia, delle istituzioni e delle associazioni cittadine non si hanno più notizie dalla 17 novembre 2017.